ragazzi iscrizione gratis al canale per voi può essere una mischerata per me è importante voglio arrivare a 10.000 prima possibile iscrizione gratis attivate la campanellina personalizzate la dirittura se vi va ma non siete obbligati siamo vicini agli 8.000 dopo 16 mesi questo canale fa dei numeri incredibili tutto gratis fate voi allora nonostante la vittoria di ieri l'euforia tutto giuse dove cinese te lo ripeto per l'ennesima volta me lo scrivete continuamente io dove cinese non lo so sarà in sala registrazioni sarà a fare prestito non lo so dove cinese e ti dico la verità non mi interessa nemmeno ormai dove ma non mi è mai quasi interessato pensa se mi interessa ora un'altra cosa la feppa mi avete chiesto mi avete scritto in privato in 18 più tutti i messaggi che potete vedere giuse la feppa giuse regalami la feppa no io ti regalo nulla te la compri ti posso dire dove comprarla la curva nord sicuramente non ha bisogno della mia pubblicità io l'ho comprata nel loro web store loro hanno web store dove questa era ho preso uno dei primi modelli l'anno scorso te la faccio rivedere guarda come la fuma guarda come la fuma ti posso dire che è una felpa di qualità perché di materiale di qualità non sono quelle felpacce a 20 euro e si scassano dopo dieci volte tu le lavi o che tu le devi lavare con l'acqua fredda questa è una felpa di qualità ed è bellissimo quindi se la volete ve la comprate io non regalo nulla ragazzi sono mia via fa beneficenza io posso dare una mano ai ragazzi dell'atisb ma eh ve la comprate la feppa c'hanno un web store andate lì e fate l'ordine sono precisi puntuali sono messi bene provate poi dopo me lo ridete quando io ti dicevo che quello lì andava lasciato là che era giudacu miglio verde chiamalo come ti pare è un calciatore è sempre stato un calciatore che nei big match ha fallito 90 su 100 lui premier league ha realizzato solo il 14 per cento dei gol decisivi e dei big match nei suoi migliori albori ma di cosa ragioni tecnicamente scarso ho detto ieri guarda tieni romelu questo dovevi prendere era questo l'oggetto di cui ti hanno detto guarda lo devi buttare nella rete non l'hai strusciata non l'hai nemmeno accarezzato appena avevi palla la scaricavi romelu ti sei cacato addosso te lo dico io perché a te manca anche la personalità in questi incontri qua motivo per cui ha sempre fatto ridere te il tuo meglio della tua carriera romelu lo hai dato con antonio conte e a me parrucca mi sta sui coglioni lo sapete ma a te romelu il migliore anno della tua vita lo hai fatto con antonio conte perché nessun allenatore come conte riuscirà mai a farti tornare a quei livelli nessuno se non antonio conte un attaccante sopra la palla la palla la va un metro ma io poi romelu ma io a te ti ringrazio invece io a differenza del 99 per cento degli interisti io io sono io sono qui a dirti umilmente grazie romelu che ti sei tolto dai coglioni da solo perché grazie a te turam ha avuto comunque il posto sicuro sapeva che doveva giocare tra l'altro io vi dissi anche a voi che criticavate turam gli vogliamo dare 10 partite di tempo a questo ragazzo ci sono i video è che lo testimoniano gliele vogliamo dare 10 partite ecco ora usa milici dopo 10 partiti eh ora te lo porteresti a casa turam vero lo metteresti lì eh lo faresti entrare in famiglia turam ora vero mentre prima lo criticavi bisogna stare calmi con i giocatori calma il cinesi è un altro discorso i giocatori è un altro discorso ancora bisogna stare calmi con i giocatori e cercare di capire le potenzialità perché io vedo anche i suoi miglioramenti li vedo nei movimenti non sarà mai un attaccante da 40 gol all'anno turam stai attento ma te ne fa può riuscire a farne una quindicina una ventina e a farne fare altri venti però quindi sono giocatori che non trovi da nessuna parte perché lui può giocare in tutti i più grandi top club d'Europa se continua così perché ha ancora margini di miglioramento ticusturam e te Pierino Pierino ausilio te te tanto lo so che lo stai seguendo come me da due anni te devi portare che frenturam a Milano eh perché quello diventerà uno dei centromampisti dopo Bellingham senti che ti dico dopo Bellingham anche se sono giocatori diversi dopo Bellingham uno dei centromampisti più forti del mondo diventerà che frenturam eh ragazzi non sto scherzando e te Pierino lo deve portare questo qui lo so che con i cinesi è un cassino perché va pagato ma te Pierino mi trovi un modo di portarlo che frenturam perché tra i due tra ticus e che frenturam detto franco turam per gli amici ragazzi io vi do la verità non lo so chi è più forte ruoli diversi caratteristiche diverse ma se te mi dici Giuse tra ticus e che frenturam chi è più forte io duro fatica a dirtelo non sto scherzando ragazzi duro fatica a dirvi che è più forte si alza al livello e turam alza al livello fa gol in tutte le partite decisive assist in tutte le partite decisive il resto è fuffa non voglio sentire nulla quell'altro lì miglio verde si alzava il livello scompariva si nascondeva negli spogliatoi ma di cosa ragioni ma l'anno scorso non ti era bastato un collettino decisivo contro il porto poi cosa ha fatto cosa ha fatto miglio verde l'anno scorso per rimpiangerlo fino a ottobre cosa ha fatto spiega ma di cosa ragioni competizioni internazionali lucaco ha sempre fatto ridere ma di cosa ragionate lo sto dicendo a voi ragazzi sto dicendo a quei po a quelle poche vedove che erano rimaste fino a un mese fa ora ora di vedove non ce ne sono quasi più perché turam sta facendo gol sta giocando bene facile così con romero lucaco perché solo con conte poteva raggiungere i livelli con romero lucaco senza entrare troppo nel tecnico devi gestire un giro palla molto lento perché lui tatticamente ha l'intelligenza di una rachide quindi devi gestire la palla lenta se no non lo c'è dove va la palla capito perché né belgio con azzard e de bruyne dietro mi fa anch'io venti gol se lo vuoi sapere falli in un'altra squadra vediamo nella roba infatti nella roma ieri ha visto mancavano cinque titolari non ha visto palla ma di cosa ragioni voglio aprire io di cosa ragioni gli manca agilità non è agile gli manca l'agilità il tiro di sanchez contro lo sciatta di testa e lui è davanti alla piglia che la piglia piena di marco tira e lui è lì davanti alla non ha nemmeno l'agilità l'esplosività per togliersi davanti ai coglioni ma tu lo tira a di cosa ragioni grazie grazie romelu grazie mille grazie a te sono arrivati pavar perché altrimenti i soldi non sarebbero finiti subito quei pochi e potevano spendere sarebbero non sarebbe arrivato pavar e soprattutto non sarebbe sbocciando turam oltre a pavar un altro sassolino vi devo togliere ragazzi aslani ve l'ho detto è un anno che ve lo dico aslani è un grande giocatore aslani è un grande giocatore lui deve migliorare solo in una cosa se vuole stare davanti alla difesa deve migliorare la cattiveria deve essere più cattivo saper giocare più sporco ma già da ora se lo vedi neanche nei contrasti è molto più impattante attenzione facci caso è molto più impattante ma poi ieri che lancio ha fatto ma ragazzi ma 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 che lancio ha fatto aslani ma siamo fuori di testa o cosa secondo te quei lanci come fai a farli se non sei un giocatore forte e come fai a fare quei lanci faglielo fare a gagliardini un lancio come ha fatto aslani ma di cosa ragione sgomita di più lo vedi no aslani si fa sentire di più è lì dove deve migliorare ed è lì dove io sto vedendo dei grandi miglioramenti attenzione aslaninho perché aslani è un grande giocatore come è un grande giocatore carlos augusto che io feci un video venti giorni prima eh che l'inter lo prendesse dove ti dico a carlos augusto è un grande giocatore infatti ha conquistato la nazionale brasiliana ieri è entrato con personalità con forza tranquillamente tranquillo senza nessun senza nessun patema d'animo bomba da 25 metri di destro perché lui è sinistro incrocio dei pali di cosa ragioni questi sono giocatori da inter questi sono i giocatori da inter carlos augusto lo stesso aslani è un giocatore da inter fidati tikus pavar questi sono giocatori da inter danfris ieri sembrava maicon hai visto danfris con che sicurezza saltava l'uomo sembrava un ballerino lascia perdere il ballerino ecco non parliamo del ballerino perché rischia di tornare indietro togliamo le note negative in questa bellissima giornata visto la vittoria di ieri è anche vero che danfris davanti aveva un ragazzino che abboccava la minima finta difficilmente lo rivedremo fare il figo però anche danfris è un giocatore sempre difeso ma perché sta giocando meglio perché lo lanciano negli spazi aperti hanno capito grazie agli esterni che a sinistra lui riesce a fare i movimenti e faceva con perisic ovvero sia riesce a tagliare il campo diventa decisivo anche lì me lo trovi un esterno destro nel campionato italiano più forte di danfris di lorenzo ma parliamo parliamo non avrai i piedi di figo danfris per l'amor di dio ma mi trovi un esterno destro più forte di lui per favore perché se mi ci dico lorenzo io ti dico parliamone ma parliamo neanche parecchio la roma scandalosa 5 dietro la linea della palla ma dios tra un pochino la linea difensiva la metteva dietro la porta moregno ragazzi ma quello quello non è più calcio poi alla fine io ho stato detto ieri l'unico modo che ha la roma per portare il risultato a casa è giocare ma ha giocato il bologna a san silo ma il bologna ha avuto molto più coraggio della roma quindi eh quando le squadre di calcio quando gli allenatori tipo morigno a cui tutti vogliamo bene ma ha rotto un po' i coglioni anche lui ora quando l'allenatore ma il morigno imposta una partita del genere la perde io godo perché quello non è calcio cosa hanno detto al report ieri è una squadra che i sauditi vogliono una squadra italiana stanno per prendere una squadra italiana vedremo chi sarà la squadra italiana leva la maglia la caldaia te l'ho già detto beh è è è è è è è è Grazie.